ma allora telecronisti rai che proprio poco prima della fine della partita che hanno detto bronucci no ma che c'entra bronucci no io dicevo del fatto dell'italia ah sì bella figura segnali confortanti segnali confortanti segnali confortanti abbiamo giocato con una squadra che penso sta messa quasi peggio di noi ciao salutiamo innanzitutto bella tutta siamo tornati con questo nuovo video perché è finita questa amichevole de merda perché è veramente un amichevole de merda primo tempo in cui immobile due sprazzi così immediati approfitta nei primi cinque minuti sì cinque dieci me ricordo pressing sugli avversari fa alla prima occasione no va bene alla seconda occasione mi pare che era stronz che si è sbagliato si è sbagliato proprio al centro dell'area recupera palla entra in area di rigore stones che se dice qualcuno ha detto l'ha strattonato io ho riguardato non ha strattonato assolutamente niente lo ha tenuto bene immobile tira la palla in calcio d'angolo poi il nulla più totale sì l'italia fino a che insegna non ha pareggiato sì sul calcio di rigore poi ma prima perché questa cosa bella prima che il gol il gol per come si è verificato per come si è verificato fase difensiva o meglio fase di impostazione a partire dalla difesa imbarazzante non mi ricordo se bonucci rugani zappacosta o de sciglio uno dei quattro però era verso il centro mi sa che era bonucci o forse rugani passa la palla io l'ho visto abbiamo registrato la live reaction nel momento in cui bonucci stava passando lungo lì dritto per dritto una palla verso la linea mediana dalla difesa c'era un giocatore dell'inghilterra che visibilmente stava pressando mi pare fosse parolo si bonucci o rugani gli passano la palla e ovviamente che cosa succede che il giocatore dell'inghilterra recupera il possesso della palla perché io stavo a pizzare così e mi ha fatto così e mi ha presa c'è stato un fallo sono stati rapidi a fischiarlo vardi prende palla appena di affischiarlo rapidi a battere cioè l'arbitro l'ha fischiato rapidamente ha fischiato subito loro lo hanno appoggiato palla subito appoggiata in porta con appoggiata attirata una ciavatta di quelle esagerate 1 a 0 finisce il gioco dell'italia ma ricordato la roma non è mai cominciato diciamo che finisce nel senso che all'inizio qualcosa c'hai proprio una base di pressing a sfisare ma tu ma chi ti riporta a 0 fino al 75 ragazzi no non ha fatto 1 l'inghilterra ne aveva fatti 12 in totale e 6 o 7 nello specchio 12 6 nello specchio ma comunque 8 1 ragazzi c'è poco da dire l'inghilterra sicuramente ha fatto molto di più dell'italia soprattutto in fase di possesso palla anche verso la fase offensiva diciamo una cosa l'inghilterra pure ragazzi storicamente è una squadra pippa no diciamoci la verità diciamoci la verità perché non è una squadra non è una squadra fortissima no allora hanno le individualità ce l'hanno perché i nomi ci stanno sterling soprattutto bardi delle alli henry kane ma c'è stasera henry kane non c'è stava vabbè però per dirti in generale comunque la formazione c'è di base sono forti ma storicamente fanno mai in cazzo storicamente non fanno mai in merito cazzo che contano europei e mondiali a parte il 66 che sono arrivati in finale ma giusto perché giocavano in casa e hanno pure vabbè lasciamo perdere il discorso non fanno non concludono mai niente e in effetti poi pure con le grandi nazionali hanno poca fortuna in genere non è questione fortuna a questione che sono più scherzi è questione sì che se la fanno un po così però comunque inghilterra a parte pure loro non è storia dell'inghilterra a parte anche loro non è che stasera me ne so sembra di tutto sto granchede gioco eccelso e quant'altro quindi hanno scontrate due squadre abbastanza raffazzone chiamatele come le partite ai pratoni ai pratoni a pasquetta non ho visto un gran bel gioco né da una parte né dall'altra sicuramente l'inghilterra ha fatto qualcosa di più meglio l'inghilterra l'italia che c'aveva paura qualche azione la ce l'ha fatta ma soprattutto ci ha schiacciato nella nostra metà campo per parecchie e parecchie volte hanno cercato di creare qualcosa pure esce li yang che si infila sei in pertugia tenta al tiro lo stesso sterling perché ti ha preoccupato donna rumma un'impostazione vabbè quei due volte vabbè non è alison giustamente io forse sarà che mi sono abituato alison e vedo ormai un centrocampista di livello internazionale in porta con quei piedi sarà che mi sono abituato così forse donna rumma diciamo che c'ha altri tipi di qualità però comunque devi considerare che è giovane no 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 nel senso che alison c'ha 26 anni quei piedi stasera ci ha messo un pochino in difficoltà a me mi ha fatto venire veramente a cagare l'abbaio di voi ma detto questo voi che partita avete visto secondo voi l'italia alla fine dei fatti meritava il parere c'è stato il vare c'è stava il vare ma anche quello c'è davano comunque il pestone c'era un pestone vabbè clamoroso e comunque grazie a chiesa che è entrato alla fine uno dei più giovani uno dei meno esperienti perché la sua seconda presenza nazionale la prima ha fatto altro giorno esperienti esperienti sì come si dice quelli che hanno meno esperienza esperti esperienti perché sono stanco vabbè quindi insomma grazie a lui se abbiamo guadagnato il caccio di rio se insegniamo sbagliamo un chi ha pettato pure se è un amico a me non me frega un cat a me non me frega un cat perché non è possibile due partite una vittoria una vittoria per l'art e in pareggio insegniamo da 374 minuti da 4 partite ecco pensate che schifo e l'inghilterra segna poco ma subisce poco perché nelle ultime 5 partite questa è la sesta è il primo gol che subisce ecco ciao ma detto questo ragazzi me vogliamo sapere cosa ne pensate è meglio che noi non andiamo al mondiale perché secondo me le figure de merda siderali che facevamo quest'anno erano veramente esagerate questa non è una nazionale pronta per affrontare sicuramente per affrontare un mondiale ma non voglio ovviamente dalla colpa di viaggio perché due amichevoli due partite non bastano per poter definire quello che è il lavoro di un allenatore che alla fine si è insediato da poco a questa nazionale tutto è che se richiami sempre gli stessi che ci hanno portato fuori dal mondiale insomma la musica può cambiare poco ti posso dire una cosa io penso che i campioni del mondo del 2006 che stasera se hanno visto sta partita perché c'è pure che poter si che la sono guardare dice ma che cazzo ma guarda onda la sono guardare che non si sono fatte le peggiori state secondo me si sono fatte dice ma guarda che cazzo dei scandali questi ci hanno un cazzo a che vedere con noi Gattuso, Pirlo, Tony mi piace commentate, condividete, iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo un nuovo video sono da Gino Taddezza, fateci sapere che ne vediamo ciao